Ci hai raggiunto un grande giornalista, Aldo Cazzullo, grazie per essere qui. Allora, nel frattempo io le dico subito che tutti questi esercizi noi li abbiamo presi ovviamente in prestito, possiamo dire, dal vostro giornale perché sono test piccoli, semplici, adesso non glieli faccio fare, però nella curiosità li ho fatti anche io in questo caso, semplici male. Nel senso che forse perché ho il ginocchio che mi fa male, semplici non sono. Allora, ne approfitto della sua presenza perché noi abbiamo aperto lo spazio anche con, purtroppo, il caro bolletta, caro prezzo anche della spesa per i nostri quotidiani, poi abbiamo parlato della regina Elisabetta II, lei anche partirà, andrà lì, sarà presente. Allora le chiedo subito, guardando anche queste immagini, cosa ci dobbiamo aspettare dopo ovviamente lunedì, dopo i funerali, e quale potrebbe essere il futuro? E come si muoverà anche Re Carlo III? Ma la regina Elisabetta è insostituibile, una regina che ha conosciuto Churchill e ha fraternizzato con l'orsetto Paddington, non tronera più. Ma io sono convinto che Carlo sarà un buon re e che la monarchia britannica sia profondamente radicata nel cuore di quel popolo e quindi la monarchia continuerà. Allora, io adesso la invito, prego, si può accomodare? Questo è il nostro spazio divano, come puoi vedere questi sono poltrone fatte con carta riciclata. Allora, cent'anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di delinquenti guidata da un uomo spietato e cattivo. Allora, questo è il suo libro che è uscito proprio ieri, Aldo Cazzullo Mussolini, il capo banda. Le vorrei chiedere, a me una cosa che mi ha colpito in una sua intervista è stata proprio la frase di Benedetto Croce, la storia è sempre contemporanea dalla storia, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo conoscerla perché poi si costruisce il presente e il futuro. E lei combatte anche quelle che sono un po' le fake news, oppure anche tanti falsi miti. E li racconta in questo libro? Sì, il primo falso mito è che il Duce amasse le donne. Il Duce sosteneva che le donne fossero una gradevole parentesi nella vita dell'uomo, ma più gli uomini sono intelligenti, meno hanno bisogno delle donne. Io credo che sia vero il contrario, più gli uomini sono intelligenti, più hanno bisogno delle donne e più le valorizzano. Invece per il Duce le donne dovevano stare a casa a fare figli, ma in realtà durante il fascismo si fecero meno figli di prima e di quanti se ne sono fatti dopo, perché le donne di fatto non potevano lavorare, quindi non potevano essere indipendenti. Le tasse scolastiche erano più alte per le femmine che per i maschi, perché meno donne studiavano e per il regime meglio era. C'era un tetto al 10% di donne nelle aziende e negli uffici pubblici, una gigantesca quota azzura del 90%. Venne messa fuori legge la professoressa di lettere, le donne non potevano insegnare lettere nei licei. No, decisamente l'idea che Mussolini amasse la donna è una fake news. Tant'è che, concludo, fece chiudere in manicomio Ida dal Ser, una donna che gli aveva dato un figlio, Benito, che si chiamava come lui, e siccome questo ragazzino continuava a dire che era il figlio del Duce, anche lui venne fatto chiudere e venne fatto morire in manicomio. Purtroppo Mussolini era un uomo spietato, con le donne in generale. Lei dice anche che non tutti gli italiani sono stati fascisti, perché se tutti gli italiani fossero così, come in molti raccontano o narrano, non ci sarebbero state tutta una serie di cose? Beh, non ci sarebbe stata la polizia politica, non ci sarebbe stato il confino, il tribunale speciale che mandò oltre 5.000 antifascisti in galera. Poi certo, gli antifascisti militanti, quelli che si battevano contro Mussolini, erano pochi. L'alternativa appunto era il manganello o il carcere. Però non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti. Poi io non voglio giudicare le persone. Quando c'è una dittatura e non c'è un'alternativa, è molto difficile giudicare le persone. Io non vi permetto di giudicare nessuno. Dico soltanto che il fascismo è stata una tragedia, che non ha fatto il bene dell'Italia. Allora, crede lei forse che noi abbiamo un'ottima scuola, però l'ultima parte della storia viene forse poco studiata da parte degli studenti, perché ricordo anche io molto bene la parte più antica, partiamo veramente dagli antichi romani e poi alla fine andiamo un po' a sbrodolare e ritorniamo un po' a quello con cui siamo partiti all'inizio che invece è fondamentale riuscire a capire anche quello più vicino a noi perché è quello che ha costruito anche un po' o comunque ha formato anche la nostra società. Beh sì, perché ad esempio pochi ragazzi studiano che nel 1938 vennero introdotte delle leggi raffiste e 4.500 bambini ebrei vennero cacciati dalle scuole senza che avessero fatto nulla di male. E poi abbiamo scatenato una guerra terribile in cui i nostri soldati sono stati mandati sul fronte russo 80.000 morti in Grecia, contro i francesi, nel deserto contro gli inglesi, in condizioni durissime. E anche a mandare soldati senza neanche le scarpe adatte in guerra, e anche quello fu un crimine contro il nostro stesso popolo. Allora potremmo dire la storia con la S maiuscola, abbiamo parlato, abbiamo detto che sarà presente ovviamente a Londra per i funerali della regina Elisabetta II, ma abbiamo letto anche di quest'estate quando a Ferragosto lei stesso era a Cantagallo, dove ha voluto raccontare, ha preso, ha ascoltato anche le testimonianze delle persone che non riuscivano a poter fare le vacanze insieme ai familiari proprio per il momento difficile. Quindi possiamo dire che non ha perso proprio, ricordiamo, vice direttore, però la passione per la cronaca e anche per nello stare insieme agli altri. Sì, ho passato a Ferragosto all'autogrill. I miei figli dicevano, papà ma non abbiamo un posto più interessante? No, è il posto più interessante, dall'alba al tramonto all'autogrill di Cantagallo tra Bologna e Firenze e mi sono reso conto che in effetti sì, gli italiani sono di cattivo umore, sono molto arrabbiati e hanno anche dei motivi per essere arrabbiati, anche se abitiamo in questo paese meraviglioso. Per concludere, le chiedo anche questo, forse studiando in modo approfondito la storia e se lo facessero anche magari più giovani noi stessi, potremmo capire che in questi anni abbiamo vissuto momenti più felici, non abbiamo vissuto momenti di angoscia, di difficoltà. Guarda, gli anni della nostra giovinezza, sono stati gli anni 80 ad esempio, sono stati forse gli anni più felici nella storia dell'umanità. Pensa alla sofferenza in cui i nostri nonni sono vissuti, la prima guerra mondiale, il fascismo, sono proprio i cent'anni della marcia su Roma. Il fascismo ha combattuto guerre in Etiopia, in Spagna, in Albania, in Libia, la seconda guerra mondiale. Pensa dover essere chiamati a 18-19 anni per andare a combattere un nemico che neanche conosce, che non ti ha fatto nulla di male. Io penso che dobbiamo mettere a renderci conto che i nostri nonni e le nostre nonne hanno fatto dei sacrifici che non riusciamo neanche di immaginare. Dovremmo cercare di goderci di più il presente e di impegnarci per migliorare. Io anche io scrivo libri, no? Non bene come lei, però ne approfitto perché toccando anche la carta e sentendola è un'ottima carta e mi viene da pensare anche questa riciclata. Comunque, la ringrazio per essere qui. Infatti così, Mussolini, il capobanda, ripercorriamo la storia. Grazie. Grazie.